Non vi ho detto una cosa, che premessa, non sono stato del tutto onesto con voi, perché non c'è solamente una data, un concerto in previsione per il prossimo futuro, ce n'è anche un altro per ora. E il concerto di cui vi sto parlando, guardate a quella parte, perché non voglio dirvi una data sbagliata e non voglio darvi delle indicazioni sbagliate. Comunque, un concerto che si terrà anche prima del Java Beach Party, nel mese di luglio, il 27 luglio, in un luogo chiamato Mondo V, in una location, chiamata Centro Commerciale Naturale. Tutto quello che abbiamo provato fino adesso, tutti questi mesi di fatiche, di errori, di... avremo lì la prova del 9. Se questo canale è servito a qualcosa, se i nostri durissimi allenamenti, e dico nostri perché so benissimo che cantavate insieme a me, vedremo se saranno serviti a qualcosa. Quindi, 27 luglio, Mondo V, ci vediamo lì. E per adesso siamo a due date. Siamo a due date. Per adesso.